il muratore vito via faccia a faccia allora pochi minuti fa abbiamo trovato la voce di questo muratore si vito cosa abbiamo fatto il test di personalità e poi subito dopo abbiamo chiamato con la sua voce un suo collega idraulico roberto e adesso siete pronti perché li mettiamo in comunicazione in real time was the sky dj time siete pronti a faccia a faccia quanto e chi parla che parla mi chiama lei e mi dice che parla adesso mi ha arrivato un numero di milano col professor di milano come si chiama lei mi scusi mi chiama lei devo dire io come mi chiamo tu sei robetto si certo io sono vito vito che muratore si eh minchia vito scorta una cosa eh ma mi senti o non mi senti si si ti sento ti senti ti cartelli eh li vuoi o non li vuoi mi dico io eh quando sei disponibile a portarmi me le porti ma come mai mi hai fatto il tuo scherzo prima fammi capire non ho capito quale scherzo quale scherzo quello di prima che mi hai bestemmiato tutto dietro io eh no io la voce era uguale eh eh la voce era uguale eh la voce era uguale allora o avete combinato qualcosa o hanno combinato qualcosa e adesso entrerò io con la sua voce mentre loro due parlano e li tiro scemi siete pronti e andiamo eh 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 dobbiamo andare assieme a vederlo perché mi devi fare un preventivo c'è da rompere un po' ma posso lo soccare oh ma mi ascolti o fai finta ma tu per fare o è proprio normale che sto cos'è ma io sono normale così che mi faccio facevo una volta non si è smesso ma che è sta conversazione un po' si parla un po' si sta zitti quanto? quanto? ehi dobbio mi senti? non c'è se ti sento eh la caduta magari la linea forse eh ma ce l'hai bruciato porca p***a sicuramente stai in giro con quel disgraziato di cosa di Mauri che hai fatto tutti questi scherzi? ti sento anche il tuo cane che avvaia eh stai dicendo proprio? ma tu ce la fai ecco a Vigevano il lavoro? dai Amulino è tu eh Amulino? eh vabbè dobbiamo scherzare o dobbiamo parlare di lavoro perché se dobbiamo parlare di lavoro va bene se dobbiamo scherzare ho trovato la persona sbagliata no hai capito fai la persona seria mi sembra di lavoro appunto io la sto facendo la persona seria se tu ti senti una persona seria noi parliamo seriamente altrimenti te l'ho detto allora quando è che ci troviamo che vediamo sto lavoro qua? questa signora che dobbiamo fare il preventivo ti ringraziamo non ho capito ma non è che gli faccia sto preventivo a sta signora? ehm vedi te se c'hai già tutto pronto me lo fai da bere e ti faccio il preventivo no ti dobbiamo far vedere cosa ce l'ha fatto ehm? mettiamo sul record poi ce l'ha rimettuto giù ma tu cosa? cosa? ti scherzate non è che è non ho capito niente è la solita registrazione come fai a bere il computer che mi vedi dove sono? cosa faccio? ehm a me sembra che ci sei soltanto tu in giro ma come mai mi fai questi attacchi così? non ho capito ma come mai mi fai questi attacchi? mi rimproveri? ehm mi sembra mi sembra anche già di avervi rispettato ah minchia eh minchia e l'hai tirato dietro di ogni eh ma non male io non vi avevo davanti in quel momento ehm ma cosa ho fatto di così? di così brutto? non ti ho detto perché stai avendo trovato una persona sbagliata ehm dici? ehm quando hai tempo e mi porti i cartelli e mi chiami e mi ricordo dove che ne provo certo 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 ok tu che ero sei a casa di solito? quell'ora qui? ma chi è tu? ehm che di solito sei quell'ora qui a casa? oh zitto mi sembra oh spaccamani minchia ma s***** tu vanno a raffanare e si fanno che è s***** che non c'avo minchia te sei matto con un cavallo faccia a faccia se anche tu vuoi fare uno schizzo faccia a faccia ah ragazzi alla grande si con lui dico il muratore andiamo nella sua terra natale in Sicilia siamo pronti? ok tappatevi da orecchie allora pronto? pronto? si? ah io sono Vito ci sei? si e a chi sei? dove posso venire a trovare? ma chi è che deve venire a trovare? ho chiamato io si? ma chi cerca? mi scuso ma tu te fai? o è proprio normale che sto cos'è? fa ridicela a caso che te sei matto tio 30 eesticano che è s***** tu non c'avo par dropping a adults che i tuoi e se vuoi che mio marito ti sento mi raccomando un diabooo tu tu damn tu vator e � Alicia ah comunque però tramite il computer sto già vedendo da dove arriva la telefonata intanto ora si si è completamente e nei guai perché il telefono è sotto controllo è si tenuggiato se dobbiamo parlare di lavoro va bene se dobbiamo scherzare ho trovato la persona sbagliata con chi stai parlando? ah io sono Vito ma Vito chi è Vito? oh spaccamani ma scurata tu la panna per il tifano che è scurata ma non sa di porci pronto? mi fischia ora mi ha toccato la minchia ho capito? sei stata minchia dove è? quanto è il nostro nome? ma tu che cazzo è? grande s***o chi è lei? va bene quando ci funziona ma si sempre come voi solo che ci funziona si che in parole povere te lo dico un cretino giochi può essere un cretino solo un cretino che fischia pronto? 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 si pronto? si pronto? ma chi è lei? ah io sono Vito io forse ho sbagliato il numero l'ho chiamato io e forse ho sbagliato il numero ah stai dicendo o no? lei chi cerca? chi è io? lei chi cerca? scusa tu a chi stai cercando? pronto? pronto io sono qua ma tu chi sei? oh spaccamani mincchia e va sbagliato un c***o ma lo stacca che te la faccio andiamo fighi dalla fighi dalla mina ti mandiamo una po' della fine non ti mandiamo un buono anche ora ma tu cazzo la mincchia capisci? sei state mincchia tu a mia? stavi dicendo tu? stavo dicendo parla forse vai ah comunque però tramite il computer ti sto già vedendo da dove arriva la telefonata si ti puoi dire tramite il computer a parte che il computer non c'è mio figlio tu chi cazzo sei? ah è uomo della turma di tale ma tu chi cazzo sei? ma io sono Vito sei Vito? allora Vito fitto di un c***o della turma ma tu suca comaci dovete posso mangiare a trovare? è mia? uno per te la trovare io per me lo buono però che cosa non c'è c'è cattaccia lì che mi parla lì che il bello preciso pulito pulito è una merda è una merda con l'ulto sbiro caratteriere ma che c'è una merda? sì ma che basta tu? faccio tu i pari su della telefonata è una merda sbiro caratteriere con l'ulto bastardo io non so l'uco ho tutti i c***o ho tutti i c***o sponete da solo b***e da mece io non so le tue zio tutta mece tutta la famiglia tutta la generazione che c'è un uai che c'è un uai che c'è un uai tanto non bavo lupo che mora magari succedesse che gli fattano che la c***o venga l'uco o viste perché si merda troppo a c***o in c***o basta succare se vuoi che c***o sembra che lo fai io non mi ando a pacco vuoi usare il c***o questo giro a parare suca tomace suca tomace suca tomace suca tomace suca suca eh? suca faccia la faccia i figli erano rapper ragazzi come fai a bipparlo è arabo non si capisce ma perché lo offendeva dicendo smirro un canabinero ma che offendeva eh? suci figli finanziere no no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no da dove va la telefonata. Ma voglio sapere, ma chi sei tu? Ah, è un teleturno di telefono. Ma come ti chiami? Pronto? 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 Ma che sei? Pronto? Pronto, ma chi è? Dove ti posso venire a trovare? Ma voglio sapere, ma come ti chiami? Cioè, voglio sapere almeno come ti chiami? Eh? Ma chi sei? Ma che chiama da qua? Da dove sta chiamata qua? Cioè, non riesco a capire. E' un f***o che non c'avo, cioè. Eh? Tuca. Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a Wender at 105.net. Scrivi a Wender chiocciola 105.net. Com'è? No, l'altro. No, 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 no. Non iniziamo sto tormento dei fischi perché io... Dunque, ragazzi, non è una stronzata. Abbiamo scoperto che esiste un programma su internet che ovviamente qua non riusciamo ad aprire per scoprire dove si trova la tua fidanzata o il tuo fidanzato in tempo reale. Sì, Marco, ma non arriva fino in Giamaica. Ma vaffanculo. Basta digitare www.trek, scritto T-R-A-C-K, tutto attaccato, a partner.com. Trek a partner.com. E come si fa? Metti il suo numero di telefono e grazie al G... www.trek, scritto T-R-A-C-K, tutto attaccato, a partner.com. E come si fa? Metti il suo numero di telefono e grazie al G... www.trek, scritto T-R-A-C-K, tutto attaccato, a partner.com. E come si fa? Metti il suo numero di telefono e grazie al G... www.trek, scritto T-R-A-C-K.